La sanità molisana versa in condizioni critiche, in particolar modo nel Basso Molise. Giusta l'azione dei sindaci di andare a Roma dal ministro, ma non è possibile abbassare la guardia. Questo è il commento di Nicola Felice, presidente del Comitato Santimoteo. Ciò che ci è stato promesso dal ministro della Salute, ovvero quello del 118 che in effetti è andato già in pratica, e quello della modifica, dice lui, promette la modifica del famigerato decreto Balduzzi, su questo noi ritiamiamo attenzione, perché la modifica del decreto Balduzzi è già in storia, già c'era previsto nel patto della Salute 1921, che è scaduto, è terminato, c'è stata una prima bozza dell'ex ministro Speranza e quindi è una cosa che va per le lunghe. E' il motivo per cui noi diciamo che non abbiamo, il Molise non ha tempo di attendere la modifica generale del famigerato Balduzzi, ma necessita del cosiddetto decreto Molise, che contempla sia le deroghe al Balduzzi, che a noi indispensabili, e nello stesso tempo anche dei fondi specifici che ci devono accompagnare per gli anni, per alcuni anni, a una riprogrammazione della sanità regionale. Questo il momento fondamentale per avere il tanto atteso decreto Molise, l'unico capace di cambiare la situazione. Noi confidiamo molto in questo e saremo zelanti a chiedere ripetutamente a tutta la delegazione parlamentare, che in questa occasione ritengo che è il momento giusto, perché vediamo anche una delegazione costituita da persone pragmatiche ed esperte, ma anche da giovani con grosso entusiasmo di voler far bene. Quindi, uniti e supportato anche dall'intera classe dirigente, a prescindere dalla colonizzazione politica, noi diciamo che ora è il momento di avere il decreto Molise. Molise Molise